Quinta Corsa di Palermo Miglio per anziani di categoria F in 14 al via, Corsa valida come seconda tris nazionale favori al gioco per Pegaso Bypass è il momento dello stacco stacco che avviene in questo istante che vede l'ottima partenza proprio del favorito Pegaso Bypass che in poche battute guadagna lo steccato ed è leader nei confronti di PVR Jet che è partito piuttosto bene, cerca il terzo posto in corda Matai Vita mentre all'esterno lo specialista Mimmo Zanca con Nabucco Jet ha preso un avvio davvero eccellente dalla seconda fila e si presenta già minaccioso su Pegaso Bypass, la postura in sediolo di Luciano Messineo sembra quella di uno che vuole mandare via, così è infatti, dunque in poco più di 400 metri Nabucco Jet sfila al comando nei confronti di Pegaso Bypass per linee esterne, prova a costruire Nachera che si trova di fronte ad una gara molto complicata, meno di 45 per i primi 600 metri con Nachera costretta all'esterno Ionico Jet ne prende la scia poi in terza pariglia abbiamo intravisto One More Time dunque al comando Nabucco Jet che raggiunge la metà della seconda curva in controllo nei confronti di Pegaso Bypass costretta a sfacchinare per linee esterne Nachera all'esterno di Piviere Jet, primo chilometro di Nabucco Jet in 1.14 e qualche linea quindi si è andato piuttosto forte e quindi davvero dura per i cavalli all'esterno, Nachera adesso ha superato Piviere Jet, è scesa terza in corda ma ha speso tanto, sbaglia all'improvviso Nabucco Jet davvero un colpo di scena imprevedibile Ionico Jet prova a profilarsi su Pegaso Bypass, anche One More Time e Prevert Griff sono vicini anche Nachera, si mantiene ancora in quota ma appare piuttosto provata dopo duro percorso esterno chi invece ha avuto svolgimento al bacio è il favorito Pegaso Bypass che può tranquillamente prendere il largo nei confronti di Ionico Jet e di One More Time ultime fasi con Pegaso Bypass nettissimo vincitore nei confronti di Ionico Jet e di One More Time ha vinto dunque il favorito sul mio cronometro un tempo attorno all'1.14 e qualche linea per Pegaso Bypass Luciano Messineo trainer e driver i colori sono quelli del signor Domenico Scarpa 2.66 la quota al totalizzatore al secondo posto un convincente Ionico Jet molto ben guidato da Andrea Buzitta in atteso invece il terzo posto del numero 10 One More Time vediamo se il replay conferma questa impressione così è infatti dunque in numeri 5